Nel giro di pochi giorni sono successe ben due volte di questi tipi di episodi, insomma un problema anche per la sicurezza. Sì, evidentemente è proprio un problema di sicurezza. Noi come amministrazione stiamo tenendo presente questo aspetto dal punto di vista della garanzia delle comunità dei cittadini. Quindi questo è un aspetto che sottolinea ancora una volta la necessità di operare quell'intervento che in qualche maniera l'amministrazione comunale ha cercato di portare avanti e arrivare alla sottoscrizione della Convenzione con le ferrovie per la chiusura di questo passaggio a livello. Quali sono i passaggi successivi? Che cosa si dovrà fare? Noi adesso stiamo attendendo anche, come sapete, il risposto del Tar che in qualche maniera dovrà dare il suo giudizio. Quindi in maniera attenta e responsabile aspetteremo questo risultato. Poi comunque partiremo in maniera definitiva insieme e soprattutto con le ferrovie per arrivare all'inizio dei lavori per quanto riguarda questo progetto. In base alla risposta del Tar quali potrebbero essere i tempi previsti? Ma se tutto va in maniera positiva come noi ci auguriamo e riteniamo che entro la fine dell'estate massimo l'inizio della primavera possono partire i lavori con la redazione del primo sottopasso carrabile in via Ugo Foscolo e poi successivamente l'altro sottopasso all'attuale passaggio a livello. Grazie. Grazie.